L'ultima testimonianza è legata invece a inizio di fatto dei lavori che tra qualche minuto sarete chiamati a partecipare. Io inviterei qui sul palco per l'intervento che riprende in qualche modo la ricerca WSMS e The World vs. SMS, quindi anche la parte di contest di gara, chiamerei Margaret Mondino e Andrea Ferrari. Raggiungetemi anche qui, abbiamo ancora ovviamente il segnale streaming e vi lascio il microfono. raccomandandovi brevità, ma so che insomma rispetterete i tempi. Ci proviamo quantomeno. Buongiorno a tutti, io sono Margaret Mondino e lavoro in Sanofi Gentime. Il mio compito di oggi è quello di condividere con voi i risultati di una survey che è stata fatta proprio da Sanofi Gentime sulla sclerosi multipla. Vi do qualche informazione in più sulla sclerosi multipla, non certo per i clinici, per gli infermieri, per i caregiver, per le persone con sclerosi multipla che vedo qua, ma soprattutto per le persone che oggi sono chiamate a cercare insieme a noi di dare una risposta ad alcune domande che queste persone ci fanno. La sclerosi multipla è una patologia molto frequente e colpisce soprattutto donne in un'età molto molto giovane. Tra i 20 e i 30 anni c'è generalmente la prima diagnosi. In Italia ci sono circa 100.000 persone che sono affette da qualsiasi malattia, ma è una patologia che colpisce in tutto il mondo. Questa ricerca di cui adesso vi parleremo rappresenta proprio, ha dato proprio voce, a più di 1.500 persone che vivono quotidianamente con quella patologia. Circa 1.000 persone affette da sclerosi e 500 caregiver. Quindi tutte quelle persone che vivono costantemente a fianco delle persone che hanno ricevuto questa diagnosi. È un progetto, una survey che appunto è stata voluta, fortemente voluta da Sanofi Genzyme. Era un questionario, devo dirvelo, molto lungo, molto articolato. Quindi tutte le persone che hanno risposto, devo dire che ci hanno messo veramente tanto tanto impegno. Sette paesi che sono stati coinvolti a livello mondiale, Stati Uniti, Canada, Francia. E un grande apporto è stato dato dalla comunità italiana. L'indagine è stata condotta l'anno scorso, tra luglio ed agosto. E tutte queste risposte sono state poi valutate da un team, da uno steering committee, che ha cercato di capire meglio quali sono realmente le esigenze di queste persone al di fuori della patologia. Quindi la patologia è particolare, è un po' imprevedibile. Tanto è stato fatto da un punto di vista di ricerca scientifica, ma vogliamo fare qualcosa di più per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita di queste persone. Vi dico l'esempio delle otto aree che sono emerse come aree critiche, sia da parte del paziente, sia da parte del caregiver. Sicuramente la patologia impatta in maniera molto, molto forte sull'emotività. Quindi il carico emotivo viene percepito in maniera molto, molto forte. Impatta anche sul lavoro. Vediamo che molte persone hanno necessità poi di cambiare lavoro, addirittura di ritirarsi dal mondo del lavoro, proprio per l'impatto della patologia su questo ambito. Abbiamo indicato anche molto l'area dell'intimità. Anche qui vediamo che ci sono dei grossi cambiamenti nella vita di relazione e nella vita di coppia. Le relazioni sociali, il confronto con gli amici, quindi con l'esterno, anche in questo caso abbiamo visto che ci sono grosse limitazioni, proprio dovute al carico che questa malattia dà. Le capacità cognitive in alcuni casi vengono fortemente colpite e quindi anche queste possono dare delle problematiche per quanto riguarda attenzione e concentrazione. Ovviamente la disabilità e la progressione è una delle aree che sono state maggiormente indagate proprio per le caratteristiche di questa patologia, ma non abbiamo dimenticato di raccogliere informazioni anche sui sintomi fisici, come per esempio la fatigue, che appunto accompagna spesso queste persone, e anche l'importante carico emotivo che vivono i caregiver, tutte le persone che sono accanto a chi ha una diagnosi di sclerosi multipla. Non vogliamo limitarci all'ascolto, ma vogliamo andare oltre, vero Andrea? Esatto. Buongiorno a tutti. Proprio per andare ancora più in profondità nell'ascolto, visto che questa è un po' la nostra natura, il nostro DNA come Sanofi Genzyme, abbiamo cercato di approfondire ancora di più queste aree che ha messo in evidenza questa ricerca di mercato e abbiamo chiesto alla comunità della sclerosi multipla. Abbiamo chiesto alla comunità della sclerosi multipla fatta da pazienti, medici, coloro che assistono i pazienti, i familiari, tutti coloro che girano attorno alla patologia. E lo abbiamo fatto attraverso questo progetto che si chiama The World vs. MS, il mondo contro la sclerosi multipla. È un progetto europeo, è un progetto social, ha un sito internet, ha un profilo Facebook, Twitter, Instagram. È un luogo dove tutti quelli che si sentono in qualche modo parte della sclerosi multipla, del mondo della sclerosi multipla, hanno potuto dire la loro e indicare quelle che potevano essere le sfide maggiori alle quali il paziente con sclerosi multipla va incontro giornalmente, quotidianamente. Piccole cose anche, però molto importanti perché impattano fortemente sulla persona. Quindi questo progetto è divenuto un luogo di ascolto, un luogo di condivisione, un luogo di socialità che secondo noi era fondamentale per cercare di capire meglio cosa servisse, ma anche fare un passettino di più, anche cercare possibili soluzioni. Questa è la prima fase però del progetto che si è appena conclusa, ed è la fase della raccolta delle sfide. Le sfide sulle quali ci soffermeremo oggi, quindi se siamo tutti chiamati a lavorare, sono tre. Nascono da quello che appunto è emerso da questo questionario. Quindi abbiamo adesso la slide dell'Ecco qua. Vedete le tre sfide per i quali vi chiamiamo a darci un supporto, un aiuto, una risposta. Le nostre persone con sclerosi multipla ci hanno evidenziato che la mobilità e la deambulazione è un grosso problema. Sono fortemente limitati in questo aspetto. E questo ce lo dice più del 70% delle persone che hanno risposto alla survey. Quindi problemi di deambulazione, come possiamo contribuire tutti insieme per cercare di risolvere questo tipo di problema. E questo forse ce lo potevamo aspettare. Però abbiamo altre due sfide molto interessanti. Le persone che hanno risposto a questo survey ci fanno capire in maniera molto netta che c'è una grossa limitazione nella relazione sociale. Quindi il loro quotidiano con le persone al di fuori del lavoro, della famiglia, è limitato. Uno dei problemi che ci hanno riportato come più importante è sicuramente quello dell'incontinenza urinaria. Questo limita moltissimo le uscite della persona con sclerosi multipla. E anche qui siamo chiamati a trovare tutti insieme una risposta o un aiuto. E in più questo problema determina anche una diminuzione dell'autostima. Quindi impatta moltissimo anche sull'autostima della persona. Un'altra sfida che è emersa, forse un pochino più particolare, è che circa il 60% delle persone risulta essere ipersensibile al freddo e al caldo. Quindi ogni cosa che per noi è normale di temperatura viene vissuta dalla persona con sclerosi multipla come qualcosa di fastidioso. Quindi troppo caldo o troppo freddo. E più del 50% delle persone che vivono con la sclerosi multipla ha difficoltà a tollerare la sensazione di calore. Quindi anche su questo abbiamo veramente bisogno del contributo di tutti per portare delle soluzioni. E a questo punto entriamo nella seconda fase del progetto The World vs. SMS. Cioè passare dalle sfide alle soluzioni. E quindi entriamo ancora un pochino di più nel progetto del motivo per cui siamo qua oggi. Infatti il progetto Tech Care, che è l'appuntamento odierno che stiamo vivendo tutti insieme, è proprio la declinazione italiana del progetto The World vs. SMS per dare risposta a questi bisogni. Allora, devo dire che noi abbiamo chiamato in causa coloro che potevano darci una mano, clinici, infermieri, pazienti, e creato un'occasione di incontro con start-upper, con innovatori, con tutta quanta la comunità che può veramente supportare, effettivamente, nel creare delle soluzioni. E siamo qua oggi in rappresentanza, direi, dell'intero stivale. Io credo che sia d'obbligo, ma è veramente sentito un ringraziamento a tutti coloro che si sono messi in gioco, che hanno occupato una giornata del loro tempo, hanno rinunciato probabilmente a qualcosa, si sono anche messi in volo con lo sciopero dell'Eri. Quindi siamo andati veramente oltre la difficoltà per trovarsi qua tutti insieme oggi per cercare delle soluzioni. Perché questa è veramente la finalità dell'incontro di oggi. Avere delle sfide sulle quali confrontarsi e tutti insieme, con le competenze di ognuno, con l'esperienza di ognuno, unire le forze a beneficio dei pazienti. Grazie. Grazie Margareth Mondino, Andrea Ferrari. Grazie per questo quadro.